120 Eh senti la radio Per appiarla La radio Vabbè non la prendiamo dai Ho detto una cazzata La radio La radio La radio walkie talkie dai Hai ragione Che cazzo ne so Non è utile Comunque la solita regola Primo che muore è gay Quindi andiamo Che cazzo c'è qui Un alveare cos'è Che schifo No Ah avete preso altra roba Ma i togna Lui è avanti Ma voglio un cazzo Di walkie talkie Me lo puoi comprare Grazie Mi fai danno Mi fai danno Scusate ma non erano 4 Morto quell'altro Già morto Porca puttana Che è successo? Eramo 4 Invece ormai E' andato Ah si L'altro è andato Perché capito Oh Gesù già fu E' cercano porno O possiamo andare Ecco No Ha fatto finire giù la roba Che cazzo sta Adesso non c'è Ah è qua sopra Lende Però sei un bastardo Porfoddio Ma qui c'è la pala Eh si è la prima cosa Perfino Allora Allora Lì ragazzi E' la cosa più profittebole Che esista Ma è togna Porca troia Ok Aiuto Ce ne sono due Che arpeare Raga Ok 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 Le torce Una walkie talkie Ok Non so come funziona Devi premere il G Per accenderlo Poi col tasto sinistro Hello Mi ci vede ragazzi C'è il cazzo E' il cazzo Walkie talkie Non so come facciamo G No non è vero Aspetta No Bene O Q O Q Prendilo O devi raccogliere Ok Premi Q Oh Mi ricevi Mi ricevi Ok Ok Allora C'è una roba E' già dietro Però Dovresti metterlo Dentro Ce ne sono due Sono troppo vicini No non dentro Dobbiamo mettere alla fine Appena andiamo via Comunque l'altra acquittata Quindi Da dentro C'è I nidi Sono le ultime cose No scuse Sì Lascialo lì Poi alla fine Quando partiamo Prima di partire Fai una bella randata Decidi di tirare la leva Appena sei sulla nave E tiriamo la leva Almeno se Le api rimangono giù E noi prendiamo in lutta Ah Se no ci inculano le api Riga Esatto Però io ho poca vita Quindi mi toccano Sono morto Quindi per colpa tua Baccio Baccio No porca troia Non so stato io E' lui che ti ha dato Una palata nel mutuo Ma te cazzo Non ti può sentire lui Adesso qua dietro Ho raccolto una cosa Comunque ho le prove video Che sei stato tu Non è vero E' come ragazzi Ok Gesù Gifo è già entrato Sarà già morto Ok E' già trovato qualcosa Perfetto Qui non c'è niente Si vede un cazzo Ma Gesù dov'è? Ah E' dalla parte opposta Non c'è niente Non c'è niente Come si Come si BABBO dove sei? Non ti troviamo Ehm Sto all'entrata Eh C'è un problema Chiedo Dovevo prendere una roba Quindi non potrò usare Quacky talky Ok Sto all'uscita adesso Di fuori Ragazzi Il minimo Abbandonano qua Ste merde Perso Ragazzi Aiuto Mi sono perso Sono uscito fuori Non trovo più la nave Noi abbiamo appena trovato Un mostro Con gli occhi bianchi E Dobbiamo Abbiamo trovato Delle robe Dobbiamo portarle Non sappiamo Dove siamo però Ok Io sto arrivato Alla nave Non so come Favo un carico Di bottiglie Lo posso Arrivo Bacca troia Bacca troia Una roba Che hanno preso Ok Ti vado ad aiutare Che cazzo è sta roba Ma non c'è mai i soldi Arrivo ragazzi Vi vengo incontro Anche se non so Do cazzo andare Allora aspetta Noi siamo andati Dietro Nuo provo Rientrare Dall'altro Cazzo C'è un Lucertalone gigante Qua la base Che cazzo è quello Va buonissimo All'entrata Ok raga Ma aspetto qui Alla base Occhio che c'è Un Lucertalone gigantesco Che sta proprio Davanti all'entrata Ok vi vedo State fuori La nave Occhio che c'è La bestia di fuori Dovete andare A sinistra A sinistra Ragazzi ci rate vicino Cazzo Merda Ragazzi avete una cosa rossa Che vi sta Avvino incontro Scappate Per dio Bicca troia Ce l'hai davanti Ce l'hai davanti Che si è bagnato qualcuno Cazzo stanno Ecco S'è arrivato Sei arrivato Oh Chi cazzo è Chi sei? Vai dentro la nave Appena ti dico Tira la leva A te Tira la leva Dove è salciccia? Cazzo no È partita Cazzo 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 È successo E invece Gesù è sceso E la nave È partita La sola È perché Volevo prendere Almeno l'albiare Però eravamo entrambi Quindi è partita Grande Allora iscriviti Tutti quanti ragazzi Mi raccomando Iscrivetevi pure voi Guardate il video Non costa niente Bravo Vedi Questo è l'ultimismo Cazzo Bella Buonanotte ragazzi Sono un piacere Vi aggiungo pure come amici Tanto su Steam Siete così Vero? Bella ragazzi Buonanotte Ciao 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 Ciao